Una sentenza che ha fatto cadere completamente l'impianto accusatorio. Aspettiamo di leggere le motivazioni, ma è evidente che l'ipotesi di fare ricorso in appello diventa plausibile. A parlare il procuratore Roberto Rossi il giorno dopo la sentenza sul crack di Banca Etruria per il filone Banca Rotta, per il quale sono stati assolti 22 imputati su 23. Questa sentenza, prosegue Rossi, è anche in contraddizione con quella precedente, emessa sempre dal Tribunale di Arezzo in seguito alle condanne combinate per Banca Rotta con il rito abbreviato. In questo caso Rossi fa riferimento alla condanna nei confronti dell'ex presidente Giuseppe Fornasari, dell'ex direttore generale Luca Bronchi, dell'ex vicepresidente Alfredo Berni e dell'ex membro del CDA Rossano Soldini. Una sentenza, insomma, che avrà quasi sicuramente altri gradi di giudizio. Secondo gli avvocati difensori degli imputati, invece, le responsabilità sul crack di Banca Etruria vanno cercate esternamente. Una sentenza che la difesa francamente si augurava, perché comunque il Tribunale si è assunto comunque la responsabilità di smontare il teorema Banca Etruria, che secondo la difesa è sempre stato comunque un teorema costruito sull'onda mediatica, costruito comunque su tutta una serie di vicende che erano legate ai rapporti con la Banca d'Italia, alla svalutazione dei crediti, quindi la crisi di Banca Etruria era da ricercare fuori dalla responsabilità degli amministratori. E quindi il Tribunale, in modo molto consapevole ed in modo molto coraggioso, devo anche dire, si è assunto questa responsabilità e lo motiverà comunque, quindi vedremo le motivazioni, di smontare il teorema di Banca Etruria e del coinvolgimento degli amministratori nel dissesto di Banca Etruria, che è dipeso da altre cause non imputabili agli amministratori, quindi le difese ovviamente sono soddisfattissime di questo risultato.